A c'è posta per te una storia insolita, quella di Ivano che manda la posta ad Emanuela che è stata per anni la sua amante. Lei lo lascia poiché lui continua a rimandare la fine del suo matrimonio con la moglie, chiedendole del tempo. Tempo che però Emanuela si è stancata di aspettare. Passano gli anni e Ivano non prende ancora una decisione e a quel punto Emanuela lo lascia. Ivano va a c'è posta per te dopo aver finalmente interrotto il suo matrimonio per ufficializzare la sua storia galeotta. Emanuela alla fine uscirà con lui, ma cosa è successo mesi dopo la registrazione della puntata? Ivano ed Emanuela stanno felicemente insieme e non nascondono più i loro sentimenti. La loro fotoprofilo insieme e la situazione sentimentale rispecchiano quella che è una storia a lieto fine, almeno per loro due. La loro fotoprofilo insieme e la loro fotoprofilo insieme e la loro fotoprofilo insieme. Emanuela ragazzi bravo il suo matrimonio per fargare la sua storia galeotta. Grazie a tutti.